Buongiorno, buon sabato, ben trovati a questo ultimo appuntamento della settimana con la nostra rassegna stampa. Iniziamo subito dalle prime pagine dei quotidiani regionali, partiamo dalla edizione di Pescara del centro, il titolo di apertura, eccolo qui, strade vietate per la festa. In centro città c'è la notte dello shopping, stop alle auto a partire dalle 18, però andiamo nel taglio alto dove ci sono le notizie principali di giornata a livello regionale, il caso politico diventa nazionale, la Lega in Abruzzo scarica Forza Italia e correrà da sola e poi la crisi al comune di Sulmona, la sindaca Casini si è dimessa e poi ancora tagli del governo, grandi opere a rischio in Abruzzo, 18 appalti. Ora scendiamo invece nelle cronache e partiamo da questa notizia di Pescara, ruba l'argento e lo rivende, badante finisce nei guai, era stata chiamata per sostituire l'assistente familiare in ferie in Romania per accudire una donna di 68 anni, si era conquistata la fiducia dell'anziana e quella dei suoi familiari al punto che le avevano consegnato anche le chiavi di casa, ma ne ha approfittato per rubarle tutta l'argenteria e rivenderla a un comprooro, è stata rintracciata e denunciata dalla polizia. Poi andiamo a centropagina, Francavilla e Migliaia al concerto della Rockstar, Gianna Nannini in piazza, Francavilla 6, fenomenale ieri sera appunto il concertone previsto nella stagione degli eventi estivi di Francavilla. Torniamo invece alla cronaca, droga e movida, licenza sospesa allo stabilimento, per uno stabilimento balneare della riviera Nord dalle 21 alle 8 del mattino per 7 giorni, il provvedimento adottato dal questore dopo il servizio eseguito due sere fa sulla riviera dalla polizia, mentre era in corso l'attività di controllo sul lungomare, i poliziotti hanno scoperto che un senegalese stava spacciando cocaina proprio vicino allo stabilimento. Nello spazio da leggere di spalla le interviste, la prima è a Nino D'Angelo lo scugnizzo, in Abruzzo mi sento a casa, dice il cantante e poi il giornalista della RAI Riccardo Cucchi, il nostro calcio sa ancora emozionare, è una delle voci principali di tutto il calcio minuto per minuto. E poi calcio mercato, lo scambio, Zampano via, arriva Ciofani per quanto riguarda il Pescara, anche un conguaglio di 2 milioni di Euro, Francesco Zampano al Frosinone e Matteo Ciofani torna a Pescara, ieri il Delfino ha chiuso per la cessione del Tersino Ligure e Ciociari per circa 2 milioni di Euro più il cartellino delle trentenne difensore marsicano DOC, trattativa che porta nelle casse del Pescara una discreta plusvalenza e una pedina gradita a pillon. Ancora si parte lunedì in Pullman da Roma nei parchi abruzzesi e poi no alla caccia, il WWF impugna il calendario venatorio. Proseguiamo sul quotidiano e il centro, andiamo a vedere anche le altre edizioni provinciali, questa è quella di Chieti, arriva la tassa di soggiorno nel capoluogo approvata l'imposta sui turisti, si pagherà da novembre, nelle pagine interne ci sono tutte le tariffe. Poi ancora nelle cronache stupro di gruppo ragazzini traditi dai selfie e dai video, si torna sulla inchiesta per questa brutta storia che arriva da Vasto, traditi e incastrati dai selfie e dai video trovati dai carabinieri nei loro telefonini, adesso quelle foto scattate durante le violenze sessuali di gruppo a Vasto diventano un'accusa pesante come un macigno e per gli investigatori fugano ogni dubbio sul comportamento dei quattro ragazzini arrestati. Oggi sono in programma i primi interrogatori di garanzia. Andiamo a Rocca San Giovanni, adesso sgominata la banda di Ricci di Mare, facevano razzia di Ricci di Mare da Ortona fino a Fossa Cesia ma i militari della Capitaneria di Porto li hanno fermati. Sotto accusa sei pescatori abusivi in arrivo dalla Puglia, tre sono stati sorpresi in mare e gli altri tre facevano da sentinelle. Sotto sequestro in località Focia, a Rocca San Giovanni, sono finiti 800 ricci di mare, sequestrata anche l'attrezzatura subacquea. Nel taglio basso il progetto a Lanciano via il monumento ai caduti, dopo il corso presentosa Popillo vuole rivoluzionare il centro. Andiamo avanti con sempre il quotidiano d'Abruzzo e andiamo a vedere adesso la prima pagina dell'edizione Terramana. Affitti estivi in nero, 20 denunciati e il titolo di apertura, operazione della finanza sulla costa, evase tasse per 110 mila euro. Ora andiamo nelle cronache. A Valle Castellana muore travolto dall'albero appena tagliato un pensionato di Bellante, Gabriele Balzani, di 78 anni, è morto ieri in un castagneto di sua proprietà a Valle Castellana, mentre insieme al figlio stava tagliando degli alberi. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, uno di questi cadendo al suolo dopo il taglio sarebbe rimbalzato e l'avrebbe schiacciato, non lasciandogli scampo. A Giulianova si discute ancora del caso Diop. La ASL scaggiona l'impiegato. L'azienda sanitaria ha chiuso l'indagine sul presunto caso di frasi razziste che sarebbero state rivolte da un impiegato in servizio a Giulianova a un 39enne di origine senegalese, Ibraima Diop. Da questa indagine interna non risulta alcun alterco tra l'impiegato sott'accusa e l'uomo di colore, il dipendente dunque ufficialmente scaggionato dall'azienda. A centropagina, nella fotografia da domani fino al 17 agosto, vino, salsicce e maccheroni torna la sagra di Torano. Nel taglio basso, roseto, la tradizione di ferragosto, spostati i fuochi dell'assunta. Il comune li trasferisce nella zona del pontile dopo 45 anni. Andiamo a vedere anche la prima dell'edizione aquilana del centro. Niente spettacoli nella via dei pub. Il titolo di apertura ha perdonanza all'aquila commercianti all'attacco del comune. Nello spazio delle cronache, sede Cotugno, la preside accusa così si chiude. I ragazzi se ne andranno, questa città morirà. Ha voluto dirlo ai microfoni del TG4, la preside del liceo Cotugno, Serenella Ottaviano. Una preside che nonostante le difficoltà non si arrende e che è preoccupata non solo di dove andranno i suoi allunni a settembre, dopo che una sentenza del Tar ha chiuso la serie a pettino, ma anche di quale sarà il futuro della città. A Celano soldi alla squadra di calcio. In dieci finiscono nei guai. Blitz della finanza al comune di Celano. Le fiamme gialle hanno notificato dei provvedimenti su ordine della Corte dei Conti a dieci persone, tra amministratori, ex amministratori e funzionari. I finanzieri guidati da Alessio Grillo hanno consegnato dieci inviti a dedurre, cioè dei provvedimenti che vengono adottati quando ci si trova di fronte a presunti danni erariali. E poi a centropagina torniamo sulla notizia che abbiamo già letto in precedenza. Sul Mona la crisi al comune. Il sindaco Gasini abbandona e dice io sono stata tradita dagli alleati. Vediamo se questa volta le dimissioni del sindaco saranno irrevocabili, perché come sapete ci sono 20 giorni di tempo per i sindaci affinché si possa ripensare alla decisione presa e tornare sui propri passi. Nel taglio basso il rugby di Serie A, Unione Rugby debutta in casa. La nuova realtà esordisce col Catania il 14 di ottobre allo stadio Fattori. La firra ha diramato i calendari dei tre gironi di Serie A. Cambiamo testata adesso e ci spostiamo sul messaggero. Andiamo a vedere la prima dell'inserto Abruzzo del quotidiano romano. In apertura regionali la Lega va da sola a Bella Chioma, così potremo vincere i forzisti. Ci auguriamo in un ripensamento. L'appello di Fratelli d'Italia e azione politica. Il centrodestra ha successo se si presenta unito. Questo per quanto riguarda quello che sta accadendo nella politica abruzzese in questi giorni che ci accompagnano al Ferragosto in Subbuglio e già in piena campagna elettorale. Andiamo avanti, scendiamo a centropagina. Anche qui nella fotonotizia lo scontro in Consiglio a Sulmona si rimette il sindaco Casini. La decisione è appunto assunta durante l'assise civica. Poi il ragazzino preso attestato è identificata la baby gang e gli aggressori hanno tra i 15 e i 17 anni. Lui dice non denuncio per paura. Questa è la storia che torna d'attualità e che arriva da Tessa. Poi ancora sparisce l'argenteria. Badante finisce nei guai. Abbiamo già visto questa notizia che arriva da Pescara. Di spalla la pagina sindacale con l'avvertenza Oneiwell, accordo per salvare i lavoratori. Dovranno essere assunti dalle aziende che aprono nella zona e ci sono degli sgravi previsti per la riassunzione dei lavoratori ex Oneiwell. Nel taglio basso a Pescara droga chiuso uno stabilimento sulla riviera nord al confine tra Pescara e Montesilvano. Questa è la decisione dell'equestore Misiti. Nel taglio alto le altre notizie include l'estate, shopping e concerti. Il capologo adriatico sbarra alle auto il cuore della città. A Montesilvano bagni vietati in un trattato di mare per i colibatteri. Per quanto riguarda la Serie B, Pescara contro il Chievo Pillon blinda l'attacco. Il delfino Schieracocco, che con i suoi nove gol ha già conquistato il posto in panchina Monachello e Bunino, apparsi indietro nella preparazione. Andiamo a vedere anche la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Il titolo di apertura, eccolo qui, Teramo vuole guidare la ricostruzione, incontro in municipio tra il governatore reggente Lolli e il sindaco D'Alberto. Basta con i ritardi questa esortazione. Poi Sanità, ASL nominati primari in tre reparti chiave, il richiamo nel taglio alto e poi a centropagina andiamo a vedere Giulianova controlli della finanza sugli affitti in nero. Allora il titolo è Beccati, i furbetti della casa al mare di Spalla, Valle Castellano, il boscaiolo travolto ucciso dall'albero, a Roseto e polemica sui botti di Ferragosto. Poi troviamo chiaramente anche la pagina che riguarda le regionali, la Lega strappa col centrodestra e corre da sola. Giulianova, nuove occasioni di sviluppo dal PRG Portuale. Nel taglio basto i Baskers a Scerne di Pineto, il festival degli artisti di strada dedicato al clown e poi il calciomercato Teramo ancora invischiato nelle eccessioni. Questo per quanto riguarda la città che chiude la panoramica sui titoli regionali. Adesso apriamo come di consueto lo spazio dedicato invece ai titoli nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. La Turchia spaventa i mercati e le titole di apertura del Corriere. La moneta ha perso il 48% da gennaio. Riflessi sull'Italia, gli scambi a quota 10 miliardi stretta del Presidente Erdogan. Trump dagli Stati Uniti alza i dazi, crolla la lira turca. La borsa di Milano cala del 2,5%. Andiamo a vedere poi il personaggio a centropagina. Fonte indiane dicono che sia gravemente malato. Il Dalai Lama anche per lui è arrivata l'ora della successione a 83 anni. Ancora il messaggio. Il Premier debutta su Facebook con un video. Conte su Salvini e Di Maio per durare. Servono risultati. La decisione del Viminale che sta facendo tanto discutere sulle carte d'identità. Ora il Viminale vuole abolire genitore 1 e genitore 2. La dicitura fatta per evitare discriminazioni. Reinserire invece quella di padre e madre di spalla. L'editoriale di Ernesto Galli della Loggia. L'opposizione. Una sinistra fuori dal tempo. Questa è la critica che arriva dal Corriere. Andiamo su Repubblica adesso. Il titolo di apertura a Turchia. L'economia affonda. Effetto dei dazi. Usa anche sull'Euro. Crolla la lira di Ancara. Mercati in calo. Male spredde Unicredit. Erdogan ci attaccano con i dollari. Ma noi abbiamo alla. Questa è la sua risposta. Poi andiamo a vedere l'analisi. La morsa dell'America scrive Federico Rampini sui dazi aumentati dagli Stati Uniti. Il commento. I maschi alfa del populismo. E invece l'articolo di Andrea Bonanni. Andiamo invece nel taglio basso dove troviamo l'Abruzzo. La Lega corre da sola. Così vuole oscurare Forza Italia. Il centrodestra diviso che poi troviamo a pagina 6 della Repubblica. Ecco qui la pagina dedicata proprio allo strappo fra Lega e Forza Italia in Abruzzo. Il primo strappo della Lega alle regionali. Correremo da soli. Dicono dal carroccio. Dopo le tensioni sulla alleanza con i grillini e sulla RAI la prima frattura della coalizione. Forza Italia. Nessun abbandono significativo ma ad Arcore scatta l'allarme. Chiaramente una divisione pesante come vedete ha riflessi anche a livello nazionale ed è un riflesso a sua volta di quanto sta accadendo a Roma delle divisioni dovute alla scelta di Salvini di formare il governo con i 5 Stelle e quindi di creare una frattura con gli alleati storici Forza Italia e Fratelli d'Italia. Adesso noi andiamo a vedere insieme il servizio proprio su questo argomento con l'annuncio fatto ieri in maniera più ufficiale. Già era stato fatto su Facebook dal coordinatore regionale Bellachioma. Dicevo l'annuncio ufficiale fatto da Giulianti nel corso di una conferenza stampa a Pescara. Vediamo. La Lega rompe gli indugi e tramite il profilo Facebook del coordinatore regionale Giuseppe Bellachioma annuncia che in Abruzzo correrà da sola alle prossime elezioni. Lo conferma anche Gianfranco Giulianti questa mattina a Pescara nella conferenza stampa organizzata per rispondere alle critiche sul blocco dei fondi per le periferie. Quindi si spacca definitivamente il centro-destra così come è accaduto a livello nazionale dopo la decisione di Salvini di formare il governo con il Movimento 5 Stelle. Si apre uno scenario nuovo a destra, la fuga in avanti del movimento del vicepremiere ministro dell'interno se non seguita da Forza Italia e Fratelli d'Italia con un accordo sul candidato governatore a questo punto a marchio leghista potrebbe spianare la strada alla vittoria dei pentastellati al momento avanti nei sondaggi. Diciamo che il livello massimo del tavolo che ha espresso questa posizione fa intendere che sia da un punto di vista nazionale che da un punto di vista locale le ambiguità che alcuni partiti hanno espresso evidentemente non sono piaciute alla Lega che avendo deciso di avere un colloquio diretto con i cittadini senza ambiguità, senza inciuci e senza creare condizioni che alla fine finiscono per essere equivoche e preferisce fare un percorso iniziando da sola e chiedendo a tutti coloro i quali ci staranno di seguirci su questo discorso. Tradotto necessariamente si deve dire che la Lega prende le distanze da quanti stanno muovendosi secondo quelle ambiguità che abbiamo denunciato sia da un punto di vista nazionale sia da un punto di vista locale. Molte delle polemiche sono strumentali, sono in danno, stanno facendo male al centro-destra e quindi un momento di chiarezza e la volontà per quello che riguarda la Lega di non essere fraintesa nel quacervo del centro-destra mi sembra che sia la misura più adeguata in questo momento. Proprio ieri il consigliere regionale di Forza Italia Lorenzo Sospiri parlando delle prossime elezioni regionali aveva invece auspicato un centro-destra unito, lei cosa risponde? C'è sempre la differenza tra le azioni e gli auspici di un centro-destra unito si scontrano poi su una serie di provvedimenti nei quali Forza Italia è andata a convergere con il PD. C'è stata una dichiarazione illuminante di Paolini il quale ha sottolineato che c'erano accordi con Forza Italia per ottenere dei risultati e che gli stessi sono stati ottenuti con la mediazione delle posizioni e con il riconoscimento delle esigenze di entrambi i partiti. Ma noi da questo momento siamo chiaramente in moto per trovare in un'area vasta che oltre alla Lega andrà evidentemente a individuare nelle civiche e in tutti coloro i quali decideranno di seguirci in questa battaglia un candidato che sia riconosciuto e riconoscibile dai cittadini abruzzesi per cambiare questo Abruzzo che non ci piace. E dunque questo il servizio, notizia che ha spazio sulle prime pagine di diversi quotidiani nazionali anche sulla stampa, eccola qui prima di andare a vedere il titolo di apertura la notizia che riguarda la crisi del centro-destra in Abruzzo, strappo di Salvini in Abruzzo, la Lega senza Forza Italia, l'articolo di Amedeo la mattina, invece in apertura la stampa scrive crolla la lira, la Turchia spaventa i mercati, Erdogan a Putin, aiutami, Trump raddoppia i dazzi su alluminio e acciaio, Milano meno 2,5%, sale lo spread sotto accusa l'accentramento dei poteri economici del Presidente. Poi nella fotonotizia USA-Messico le famiglie divise si sfiorano attraverso il muro. Andiamo sul Fatto Quotidiano, titolo di apertura a 12 miliardi di immobili vuoti ma lo Stato si dissangua in affitti, patrimonio pubblico in un anno ne ha venduti solo per 48 milioni di Euro. Andiamo avanti, il manifesto, il titolo sulla fotografia di Erdogan, lira funesta, Ankara sulle montagne russe della svalutazione meno 14% della sua moneta, la lira, Erdogan si appella da là contro il complotto del dollaro e invita i turchi a cambiare le valute estere, ballano le borse europee, crolla l'italiana Unicredit, allarme a Francoforte. E poi subito in pancia al giornale, subito sotto la fotografia, Salvini cancella le famiglie gay, diritti omogenitoriali a rischio, il ministro leghista scatenato anche contro l'Islam. Andiamo sul sole 24 ore, anche qui in apertura c'è la crisi turca, il caos in Turchia fa tremare i mercati, le tensioni con gli USA, Erdogan telefona Putin, invita i cittadini a cambiare la valuta estera, Trump raddoppe i dazzi su alluminio e acciaio, l'ira turca perde fino al 20%, anche se c'è il rischio concreto che i cittadini, come è accaduto ad esempio in Grecia, si rechino agli sportelli per ritirare i risparmi fatti in Turchia e convertirli in monete più forti come ad esempio il dollaro oppure l'euro. E poi Milano cede il 2,5%, crollano le banche più esposte su Ancara, tra cui Unicredit. A centro pagina, alta velocità, tappe ilva, il sì, batte il no, questo il sondaggio tra favorevoli e contrari. Andiamo su avvenire, la lira va in fumo, il titolo di apertura, Turchia in crisi, alta inflazione e fuga dei capitali, la moneta si svaluta e soffrono anche Unione Europea ed Italia. Andiamo sul messaggero ora, il titolo di apertura, pensioni, tagli legati all'età di uscita, la nuova legge prevede il ricalcolo sugli assegni alti in base all'anticipo, penalizzate donne militari, manovra, l'esecutivo prepara sgravi fiscali per le famiglie, così vogliamo incentivare la natalità. E poi le nuove carte di identità, Salvini manda in soffitta, genitore 1 e 2, tornano e si torna a chiamarli madre e padre. Di spalla l'articolo di Luca Ricolfi, il governo era GX, la continuità nascosta dietro il cambiamento annunciato. Proseguiamo con il quotidiano Il Tempo, partiti rovinati dalle consulenze, l'apertura, i gruppi parlamentari spendono una fortuna per stipendiare i collaboratori, Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Lega, ecco tutti i bilanci in rosso. E poi Tenaglia, giallo verde, Suttria, il ministro del Tesoro è in bilico, in realtà è in bilico insomma da parecchio tempo, praticamente la sua nomina. E poi andiamo a vedere una notizia che riguarda lo sport, il coni riformulare le sanzioni, riparte la Tenelovela, il Frosinone rischia la Serie A. Proseguiamo con le prime pagine nazionali, adesso Libero, rovinata da là e dal suo sultato, la Turchia affonda. Pazienza, l'islamismo come il comunismo crolla sull'economia, la svolta talebana di Erdogan fa fuggire gli investitori stranieri e porta al fallimento un paese che fino a pochi anni fa aveva una crescita record. Così finisce chi si schiera contro la libertà, questa è la lettura che dà il quotidiano di Vittorio Feltri. E poi in questa vignetta i cattolici lo preferiscono a Francesco, facciamo Matteo, Papa e sia finita questa la provocazione. Sulla verità, tornano mamma e papà, panico a sinistra, basta con genitore 1 e genitore 2, Salvini ripristina la dicitura naturale sulle carte d'identità, i documenti ufficiali. Mi chiamano troglodita, ne sono orgoglioso, dice il Ministro e poi annuncia cosente familiare per premiare chi ha figli. Nel taglio alto il decreto che salva i parenti di Renzi varato da Gentiloni dopo il voto del 4 marzo, si torna sul caso dei fondi Unicef. Andiamo sul secolo d'Italia, reato universale, il titolo che accompagna la fotografia di Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia. La Meloni su Facebook si dichiara d'accordo con Salvini che si era detto contrario a utero in affitto e simili orrori. In primo piano no fughe da Forza Italia, Berlusconi tranquillizza riflessi di quanto sta accadendo anche in Abruzzo e poi addio a genitore 1 e 2, Salvini sia padre e madre, ancora paura per il virus del Nilo, infezioni nel nord Italia. Sul mattino di Napoli, in apertura pensioni d'oro, penalità a chi è andato via prima, piano del governo per gli assegni sopra i 4 mila Euro, tagli legati all'età di uscita, nuovi sgravi fiscali, Salvini un cosente familiare per spingere alla natalità, anche qui ritroviamo la crisi del centrodestra con la Lega che rompe con Forza Italia, in Abruzzo corriamo da soli e poi chiaramente anche gli esteri, la notizia più importante della giornata di ieri, crolla la lira turca e in Turchia ci sono dei problemi, si agitano tutte le borse come spesso accade, ci sono conseguenze domino per quanto riguarda la politica estera. Andiamo a vedere anche questa notizia di cronaca, si rompe la protesi, odissea entra ospedali, muore sessantenne, ricoverato a Vico e Quenze in seguito a una caduta, poi è trasferito a Sorrento, inutile l'intervento a Sarno, questo per quanto riguarda la sanità campana. Adesso andiamo a vedere i principali quotidiani sportivi italiani, rapidamente la gazzetta dello sport in apertura, ok Keita, Modric sfuma, Inter uno scatto e una frenata, accordo con Monaco 5 milioni per il prestito e 30 per il riscatto, Perez blocca Luca, offerto pure il rinnovo. E poi crash test a Madrid, Milano sfida, i re di coppe, occhi su Iguaini e Icardi, Rossonieri con Real alle ore 21 su Canale 5, Nerazzurri con l'Atletico su Sky alle 21.05, strategie Milan, Reina avvisa, Donna Roma, Leo si scopre su Bacayoko. Andiamo a vedere in che il centro pagina, Ronaldo porta la A al record di Eurogoal con Iguaini e Zeco, un tridente che nessun campionato ha, Cassano, CR7 farà 40 reti. La Serie B a 19, rischio ricorsi, la Lega forza la mano, calendari lunedì, la FIGC resiste, si temono code processuali, ripescaggio e campionato a 22 e tutto in ballo. Andiamo sul Corriere dello Sport, Modric ringrazia, Luca resta incedibile e tratta il rinnovo con il Real che stasera sfida il Milan di Iguaini per guadagnare come ramo su 11 milioni netti a stagione. Ha usato la corte di Suning, Icardi che testa contro l'Atletico di Simeone. Chietà con sola Spalletti è fatta con il Monaco, questo per quanto riguarda l'Inter. Poi rottura di B, la Lega di Balata annuncia il campionato a 19 squadre e la FIGC di fronte ha una grossa grana e poi lo scempio giusto e il commento di Ivan Zazzaroni. E ancora su Tutto Sport, CR7 di Bala, la coppia dei campioni, intesa perfetta nel lavoro precampionato, nel taglio alto B come Barahonda. La Lega annuncia lunedì calendari a 19, poi polemiche ricorsi e contro ricorsi e il Coni riapre il caso Frosinone-Palermo. Questo per quanto riguarda la Serie B, noi adesso ci dobbiamo fermare per il break pubblicitario, prima andiamo a vedere le previsioni meteo per le prossime ore, poi torniamo con la seconda parte di Mattino 6. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte della nostra rassegna stampa, torniamo alle pagine interne dei quotidiani abruzzesi. In primo piano sul centro a rischio i fondi per le strade, grandi opere, Abruzzo col fiato sospeso. Il Ministero convoca la Regione per fare il punto su 18 appalti già finanziati, ma non spiega perché, si temono maxi tagli e qui c'è tutto l'elenco delle maxi opere sotto esame. Andiamo a vedere le altre notizie. L'impianto Larino Chieti metano dotto stop di costa, applaudono Vacca e Marcozzi, così il Ministro dell'Ambiente sembra stoppare il progetto fra Abruzzo e Molise. Poi ancora Berardinetti sul caso, Bussi vince la linea della Regione, il Masterplan e gli ingegneri invece vincono contro la Regione. Nel taglio basso agricoltura a rischio 37 milioni di aiuti dell'Unione Europea. Nuovo allarme del consigliere forzista Febbo che cita dati del Ministero, Abruzzo penultimo in Italia. Nella pagina successiva invece la politica con lo strappo nel centrodestra, la Lega scarica Forza Italia. Noi da soli alle regionali, intervista a Bella Chioma che dà il ben servito agli ex alleati Pagano e Martino, già scelto il candidato in Abruzzese, ma non esclude un patto con i 5 stelle. Gli azzurri ribattono solo una provocazione per Forza Italia, quella della Lega è soltanto una provocazione. Non ci muoviamo dalla nostra posizione, non esiste un centrodestra competitivo che non sia unito. Noi pensiamo di proseguire il percorso unendo le liste di centrodestra o di C, Fratelli d'Italia, civiche e ci auguriamo che la Lega dopo le vacanze d'agosto possa riflettere e ripensarci queste le parole di Nazario Pagano, mentre Fratelli d'Italia parla di favore ai 5 stelle, Gianluca Zelli di azione politica plaude alla Lega. Andiamo avanti con senso di responsabilità, continua Pagano che annuncia candidati molto forti in Abruzzo. Questa è un po' la panoramica su una situazione abbastanza convulsa. E poi l'ex governatore Abruzzo in campo per difendere Mattarella, interrogazione di D'Alfonso a Conte, denunceremo i responsabili degli attacchi al capo dello Stato. Andiamo sul messaggero nella pagina Abruzzo, anche qui c'è la calda estate della politica, la Lega corre da sola alle elezioni regionali, il deputato Bellachioma, chi ci ama ci segua, scrive su Facebook perché noi andiamo a vincere. Spaccatura con Forza Italia aveva espresso l'auspicio di un centrodestra unito, intanto i forzisti chiedono ai selviniani di ripensarci, appelli anche da Fratelli d'Italia e azione politica. Per quanto riguarda invece i trasporti da Roma ai gioielli abruzzesi parte il pullman dei parchi, il bus collegherà la capitale con Pescina, Pescasserori, Roccaraso e Castel di Sangro. Prima di andare a vedere questo servizio completiamo la lettura della pagina da Alfonso contro Di Maio e Salvini, interrogazione al Premier Conte sulle accuse dei due ministri a Mattarella durante la crisi. Allora possiamo andare a vedere il servizio che riguarda il pullman dei parchi. Torna il pullman dei parchi. Partirà infatti il prossimo 13 agosto la rinnovata linea di collegamento tra Roma e il Parco Nazionale d'Abruzzo che sarà curata da Sangritana S.p.a. Due corse giornaliere Roma-Pesco Costanzo e Ritorno con partenza alle ore 7.30 e alle ore 17 che toccheranno tre parchi abruzzesi, il Sirente Velino, quello della Maiella e il Parco Nazionale. La tratta che parte da Roma prevede fermate a Celano, Pescina, Gioia de Marsi, Pescasseroli, Opi, Villetta Barrea, Barrea, Alfedena, Castel di Sangro, Roccaraso, Rivi Sondoli e Pesco Costanzo. Un servizio richiesto a gran voce dei territori montani come sottolinea Maurizio Di Nicola, consigliere regionale con delega ai trasporti. È un piccolo segnale per un piccolo periodo ma che ci aspettiamo possa diventare stabile per dare attenzione dedicata al trasporto turistico e a quei territori. Credo che il prezzo particolarmente competitivo di questa corsa potrà agevolarne l'uso e quindi anche tradurre in una soddisfazione per l'utenza questa nostra intuizione. Il rinnovato servizio viene presentato sul mercato con un nuovo marchio, Abruzzo Bus, candidato a diventare il simbolo del comparto commerciale di Tua, società di trasporto abruzzese, realizzato da Sangritana S.p.a. Dopo aver fuso in Tua S.p.a. le tre società pubbliche, Arpa, Tua e Sangritana, si è scelto adesso di gemmare Sangritana per il mercato e per i servizi commerciali affinché potesse avere la flessibilità, la elasticità che deve avere un'impresa che deve competere con i privati tutti i giorni e sapersi modulare secondo quelle che sono le richieste dell'utenza. Pasquale Di Nardo, amministratore della società Sangritana S.p.a. Sangritana ormai è diventata l'anima che si occupa delle tratte commerciali. Qual è il progetto per il 2019 di questa società? È l'iniziativa, è il battesimo per quelle che sono le attività turistiche che testeremo, l'attività messa in campo ed eventualmente riproporla con i miglioramenti, con i suggerimenti che potranno venire in questi 30 giorni di sperimentazione per poter immaginare al ripristino delle attività turistiche invernali di poterci riproporre. Mi sembra che ci siano tutte le condizioni per poter guardare in termini positivi ad un risultato altrettanto positivo. Andiamo sulla pagina Abruzzo del centro, il turismo da rilanciare. Ritroviamo la notizia di cui abbiamo già visto il servizio più vicino alla capitale con il pullman dei parchi. Il collegamento sperimentale Roma-Pesco-Costanzo affidato alla Sangritana 20 euro il costo andato in ritorno, il servizio attivo da lunedì al 9 settembre. Andiamo avanti nel taglio basso, a caccia già da settembre, il WWF impugna il calendario venatorio. A Pescara ora, nella apertura della pagina del centro, c'è l'evento di stasera, le vie di Pescara senza auto per la notte dello shopping, i divieti dalle 18, ma la riviera resta aperta, sosta gratis nell'area di Risulta, manifestazioni in tutte le strade, poi il concerto di Arisa in piazza Salotto. Andiamo a vedere anche l'apertura della pagina di Pescara sul messaggero, il quadrilatelo brindato per la festa, il concerto di Arisa e l'evento clou della notte dello shopping, limitazioni per bevande in vetro e lattine, dalle 18, sosta gratis nell'area di Risulta, strade chiuse dalle 17, da Piazza Duga, da Hostal, Rampigna, tutti sulla corsia dei bus. E poi lo stabilimento discoteca chiuso per droga, blitz della polizia sulla movida della riviera, Puscher Senegalese denunciato, sequestro di Ashish. Invece tornando agli eventi, Nino D'Angelo 6.0 al d'annunzio, il cantante e autore napoletano celebra la lunga carriera artistica, una serata per divertirci. Continuiamo sul messaggero. Menze Alessandrini stringe i tempi, dopo il caso dei bimbi intossicati, avviata la procedura per la risoluzione del contratto con la Cirfood Bioristoro. Verso l'ingaggio della seconda classificata, la Cams CSA, sarà chiesto alla Procura il dissequestro dei centri di cottura. Riattivare il servizio e agevolare le iscrizioni sono le priorità in vista dell'anno scolastico. E poi la lega dirottare sulle periferie i 12 milioni per l'area di risulta. Ancora sulla pagina dell'area metropolitana, mare, un divieto rovina il ferragosto, escherichia coli di poco oltre i limiti nel tratto antistante via Leopardi a Montesilvano, grandi alberghi e altre zone. Ok, i dati Arta impongono l'ordinanza firmata da De Martini, inizia la rabbia degli operatori balneari, duro colpo alle attività. Nel frattempo, intanto Maragno apre la caccia agli evasori, cambiano le regole e tributi da saldare a rate. E poi Sospiri attacca Area Vestina, fuori dal biglietto unico. Altre notizie sulla nuova Pescara, una legge per dare forza alla riforma, la Fondazione Pescara Abruzzo sollecitata una task force per dare efficacia alla scelta, Confindustria con Digio Saffatte, anticipa i passaggi per la grande area metropolitana Chieti-Pescara. Possiamo andare a vedere questo servizio. La nuova Pescara oggi è legge, Marco Camplone, cosa accadrà da domani? Da domani accadrà che si comincerà a lavorare per tutte le questioni burocratiche e amministrative che porteranno alla fusione e all'integrazione dei tre comuni. C'è tutta la parte burocratica da sistemare, ma contemporaneamente bisognerà pensare anche ai servizi dei quali beneficeranno i cittadini dei tre comuni e bisognerà mettersi insieme per una progettualità importante perché la nuova Pescara è anche e soprattutto futuro. Ci sono però delle resistenze anche forti in alcuni comuni, Montesilvano e Spoltore? Sì, ci sono state resistenze da parte dei due sindaci, resistenze che posso anche definire legittime, ma che credo che da questo momento non abbiano più motivo di esistere. Noi siamo un caso nazionale e insisto nel dire che tutto questo avviene su un territorio votato all'aggregazione. Cosa significa per Confindustria la nuova Pescara? Cosa significa la nuova Pescara per l'imprenditoria? Sì, la nuova Pescara per noi è un progetto unico nel nostro paese per le dimensioni che avrà, tre comuni che costituiranno una città che sarà la ventesima città nel nostro paese e che in qualche modo ottimizzerà delle risorse economiche importanti da dedicare ai giovani, all'occupazione e alla dimensione imprenditoriale. Farà recupero di molti costi della politica e quindi un esempio che l'intero Consiglio regionale l'abbia votato all'unanimità. Siamo a vedere questa notizia anche sul centro. Dopo il via libera alla legge, nuova Pescara. Adesso superiamo i campanili. L'associazione che ha voluto la fusione di Pescara-Montesilvano e Spoltore chiede alla regione una task force di tecnici e si appella ai sindaci affinché siano tutti uniti. Confindustria e dopo il 2024 tocca all'area metropolitana nel Codacons pronti alla class section se si perderà altro tempo. Proseguiamo. Ruba l'argenteria, badante denunciata. La donna pugliese di 59 anni è stata rintracciata dalla polizia dopo la denuncia della famiglia. Bottino ritrovato in un compro oro. Il ringraziamento alla squadra mobile. Mia madre non ha parlato per un mese. E poi droga movida sospesa per lo stabilimento sulla riviera Nord. Il questore ha disposto la sospensione delle attività. Andiamo avanti. Il comune liquida la ditta che gestisce le menze. Abbiamo già visto in precedenza a parte la risoluzione anticipata del contratto dopo i 200 bambini intossicati. Alessandrina sicura il servizio ripartirà a ottobre con una nuova azienda. E poi la polemica sui fondi alle periferie. Scontro fra Lega e Partito Democratico. Ancora sicurezza in mare. Le regole spiegate ai bimbi. Domani mattina c'è papà ti salvo io. Una lezione per i più piccoli con simulazioni in acqua. A Francavilla il concerto della Nannini. Abruzzo mio ti abbraccio. In migliaia per la cantante. In piazza Sant'Alfonso. Francavilla sei fenomenale. Ha detto la Nannini che ha fatto il suo concerto e ha fatto fare il pieno alla città. Andiamo avanti. Montesilvano la marcia sul lungomare. Prostitute in pieno giorno. I cittadini scendono in strada. Domani sera la manifestazione che punta ad adottare il modello Silvi. Aliano vanno sequestrati gli appartamenti e servono ronde notturne. E poi a Montesilvano c'è il divieto di balneazione nella zona di via Leopardi. A Città Sant'Angelo altre eventi. Festa in corso. Va in scena il jazz. Dal 17 di agosto il centro storico ospiterà band da tutta Italia. Si esibiranno per tre giorni in decine di location del borgo. Nell'area metropolitana buche sui marciapiedi e strade dissestate. In arrivo a 700 mila euro a Francavilla interventi. Al via in autunno in diverse zone grazie a un mutuo ottenuto da cassa, depositi e prestiti. A Cepagatti, il sindaco e gli assessori si dimezzano l'indennità. Nella pagina successiva con trade martoriate, penne aspetta da quattro anni. Dopo il dissesto idrogeologico del 2014, ci sono ancora tante le strade malmesse a Villa Degna. Residenti esasperati. Ci sono buche anche profonde, mezzo metro. Andiamo avanti. Adesso le pagine di Chieti. Il comune fa cassa. Ecco la tassa di soggiorno. Si pagherà da novembre. Il Consiglio Comunale approva l'imposta sui turisti, esenti, studenti, disabili e bambini. Mico Monaco di Forza Italia nel corso del 2017, quasi 100 mila persone hanno visitato la città di Chieti. Nella pagina successiva si torna sullo stupro di Vasto. I ragazzini del branco incastrati dai selfie. Scoperti foto e video delle violenze sessuali su una 14enne nei telefonini dei quattro minorenni arrestati. Oggi gli interrogatori di garanzia. Andiamo avanti. Truffa delle vacanze. Sparita la caparra. Vasto professionista che voleva affittare un appartamento raggirato da un finto proprietario. E poi ancora. Minaccia e pedina alla ex amante per quattro mesi. A Chieti, 33enne, pronta a rivelare la storia al marito. Ma le donne non c'è scatta il divieto di avvicinamento. Ancora sgominata la banda dei ricci di mare. Maxi sequestro della capitaneria a Rocca San Giovanni. Sott'accusa sei pescatori pugliesi in azione da Ortona a Fossa Cesia. Pagine di Chieti anche sul messaggero. Anche qui in apertura arriva la tassa di soggiorno da 60 centesimi a un euro. Dopo la delibera ufficiale delle tariffe entrerà in vigore dal primo novembre. Esenti gli studenti dell'Ateneo sotto i 26 anni che alloggiano in strutture universitarie. Maura Micomona con l'imposta non graverà sui contribuenti teatini ma sarà applicata ai turisti che visitano la città. E poi l'ospedale Lamarcozzi di Fidalasle via agli atti in procura. Nel taglio basso se non torni con me racconto tutto tuo marito è stato fermato. Abbiamo già visto la storia di stalking. Poi nella pagina successiva la rivolta dei sindaci per l'acqua. Sittin ad Altino per due sere davanti ai serbatoi di accumulo e coro di denunce. Continui guasti e chiusure notturne. Sasi, società che gestisce il servizio idrico in 92 comuni della provincia, ha chiesto l'intervento dei carabinieri. Andiamo nel taglio basso a San Salvo. Accoltellato durante un litigio è grave. Il ferito è un 43enne aggredito in via Estonia. I carabinieri cercano di capire il movente. Sempre da San Salvo, compito da malore in mare, muore un turista emiliano. Torniamo sul quotidiano Il Centro. Andiamo ad aprire le pagine del Terramano. Operazione della Guardia di Finanza. Case estive affittate in nero. Ventile, denunce, vase, tasse per 110 mila euro. I controlli delle fiamme gialle sono scattati a Giulianova, Alba Adriatica e Tortoreto. Il caso più clamoroso ha scovato un proprietario di quattro immobili che vive all'estero. Non ha versato 75 mila euro, segnalazioni anche dai locatari. Poi andiamo avanti. Le legale della donna a giudizio. Missioni nelle indagini sull'accusa al questore. L'avvocato denuncio fiduciosi che il dibattimento scioglierà i nodi della vicenda in senso favorevole all'imputata, liberandola dalla nomea di calunniatrice per la vicenda della calunnia nei confronti dell'equestore Enrico De Simone. Nel taglio basso, ricostruzione Lolli e promette rinforzi. Il governatore reggente arriva a Terramo, incontra il sindaco D'Alberto e si impegna a dare più personale agli uffici. Nella pagina successiva, la cronaca, muore travolto dall'albero tagliato. Valle Castellana, la vittima, aveva 78 anni ed era di bellante. La tragedia sotto gli occhi del figlio, nelle castagneto di proprietà. Andiamo ad aprire adesso, anzi no, completiamo sul messaggero la lettura delle pagine teramane. In apertura sulla pagina di Terramo del messaggero, Lolli e al sindaco D'Alberto. Ricostruzione più veloce, il presidente ad interim della regione. Tutti gli sfollati devono avere una casa a disposizione dell'Ater, 62 milioni, per far rientrare nelle abitazioni 2 mila persone. Il nuovo governatore ha annunciato la convocazione della cabina di regia con il commissario Paola Di Micheli. E poi taglia la legna nel bosco schiacciato da un albero. Vedete anche la foto dei soccorsi che però nulla hanno potuto. E poi ancora ucciso da infarto a 33 anni sotto gli occhi della moglie, la storia che arriva da Tortoreto. Il caso di Nolfi, stop agli aborti, ginecologi, proposta sbagliata. Nella pagina successiva, testate al 15enne, scoperta la baby gang e tutti tra 15 e 17 anni di Tortoreto, Terramo e del Lazio. Sono 5 testimoni che hanno assistito alla rapina. La vittima non vuole denunciare o paura delle ritorzioni, l'avvocato per lui, patrocinio gratuito, deve esserci giustizia. E poi da Giulianova a Porto, il piano salva i caliscendi sul mare più blu. Ancora ritroviamo la notizia degli affitti in nero ai turisti, poi da Alba Adriatica raccolta differenziata a piogge di molti, a Martinsicuro, sì a stazione e sottopasso. Restiamo sul messaggero, apriamo le pagine dell'Aquila. Sotto servizi si sblocca il cantiere nella zona di via Forte Braccio. L'apertura è interrato, il reperto archeologico a causa del quale le operazioni erano rimaste ferme per 8 mesi. Dopo la pausa di agosto, già all'inizio di settembre, si ripartirà con la fase finale da chiudere in 20 giorni. Il presidente della Gran Sasso Acqua, Fabrizio Airaldi, dice centro storico praticamente quasi concluso. Paziente muore alla sbarra un medico aquilano, il decesso è avvenuto in una clinica privata a Cortina d'Ampezzo. Andiamo nella pagina successiva, vediamo se riusciamo a visualizzarla. Eccola qui, San Giuliano in autunno, via la riqualificazione nella zona dell'incendio. Accelerazione dopo l'incontro tra comune e università. Il progetto di massima è validato, ripristino e sentieri sicuri. Ancora sulle pagine dell'Aquila, andiamo a Sulmona. Anche il sindaco Casini getta la spugna la decisione di dimettersi dopo l'accalco dei consiglieri di maggioranza che in aula hanno parlato di una crisi politica irreversibile. Se verranno confermate entro 20 giorni, si tratta delle quinte dimissioni consecutive. Prima del tempo un record negativo. Andiamo sul centro e completiamo anche le pagine dell'Aquila. Gli esercenti dimenticati, i pub lanciano accuse al comune dalla perdonanza, nessun aiuto. Andiamo a vedere le altre notizie. Il comune prolunga lo shopping fino alle tre in occasione del Festival Jazz, previste le isole del gusto. Il 26 torna alla fiera. A Sulmona il sindaco si rimette tradita dagli alleati. Casini abbandona, sgambetto decisivo di Ramunno in consiglio. Il sindaco si rimette, maggioranza incartata su sterili discussioni. Ora dobbiamo andare nelle pagine di Sport. Eccola qui, quella che riguarda il Pescara sul centro. Scambi di mercato, zampano ai saluti. E' fatta per Ciofani, il terzino a Frosinone al Pescara a 2 milioni. E' il laterale marsicano. Il Delfino spinge per l'attaccante laziale Rossi. Bunino via, giocherà nella Juventus B. Cocco rimane, Macin pronto il nuovo contratto. Queste le notizie di mercato. Mentre nel taglio basso c'è il caos in Lega. Lunedì il calendario si partirà con 19 squadre. Decisione della Lega di B che scatena le minacce dei club esclusi dai ripescaggi. La FIGC resta in silenzio. Andiamo a vedere l'apertura di pagina dell'Abruzzo Sport del messaggero. Pescara, Pilon, blinda l'attacco. Contro il Chievo davanti ci sarà Cocco. Già 9 le sue reti al piede caldo. Il Delfino su Alessandro Rossi, 21 anni, promosso vice di Immobile al Lazio. E poi il mio momento Castrati vuole diventare il numero 1. Imparo da Fiorillo per prendere il posto di portiere titolare anche nella nazionale albanese. Nel taglio basso l'Acqua e Sapone. Altri 5 rinforzi made in Abruzzola. Mucchieva il 5 settembre con i campioni dello Zambia al Palaz Santa Filomena. Nella pagina successiva il Volley Mezzo Secolo di Sieco che festa con i campioni. Folle in Piazza d'Ortone e poi lo stand per sottoscrivere gli abbonamenti nella prossima stagione di A2. Il Basket, Sharks e gli Ultra tornano a tifare nella curva del Palamaggetti. E poi troviamo il Teramo. Ora non riparto più Mirko Spighi riabbraccia il Teramo. Dal prestito al Catanzaro il centrocampista 27enne è tornato per rimanere. Noi possiamo andare a vedere proprio l'intervista a Mirko Spighi. Abbiamo detto a Zichella e lui era d'accordo. Spighi tra i più positivi della gara con la Fermana. Sei d'accordo anche te? Maggio di sì. Sì, ho fatto una buona partita. Diciamo che mi hanno fatto tutti una buona gara. Poi è normale che non sono al 100% però già a disputare 70 minuti questa intensità sono molto contento perché comunque vengo da qualche problemino che mi porto dietro. Stiamo cercando in tutti i modi di guarirlo e siamo sulla strada giusta. Noi sicuramente potremmo fare meglio ma ci stiamo imparando a conoscere. Infatti forse lì davanti alle altre quarti possiamo fare meglio. Però è normale che siamo molti giocatori nuovi e quindi le giocate ancora devono venire. Però credo che è una gara che può solo pensare al futuro in positivo. Vieni di ritorno da un prestito, torni a Teramo e stai vivendo un'estate, hai vissuto una prima parte d'estate un po' particolare. Sembrava che Spighi dovesse ritornare subito sul mercato e invece Spighi non solo è rimasto ma la prima fa già vedere buone cose. Che estate è stata fino a questo momento per te? Io ho fatto un anno in Calabria, a Catanzaro, molto positivo personalmente. Poi sono venuto qua e mi hanno convocato. Sono venuto con la testa giusta, col pensiero di poter dimostrare quello che non ho potuto fare per colpa mia ma purtroppo per il mio problema fisico. Quindi sono stati un po' di pensieri perché aspettavo questa chiamata. Poi credo di aver dato un buon segnale al mister e adesso faccio parte del Teramo e sono un giocatore di questa squadra e pronto a dare il massimo. Mirko, tu praticamente hai conosciuto tre Teramo diversi da quando sei arrivato. Questo come ti sembra rispetto agli altri due? Io in passato sarà perché il Teramo si doveva salvare, quindi cercavano il Presidente di salvare il possibile nell'immediato. Siccome è un tifoso, ci crede, ci tiene, quindi ho visto molta fretta. Invece quest'anno vedo più organizzazione, vedo una squadra costruita bene con dei giovani molto bravi che hanno voglia di imparare dai più vecchi, calcisticamente parlando. Quindi vedo un'organizzazione generale che mi fa ben pensare. Prima di salutarci andiamo a vedere quest'altra notizia di rugby. Serie a girone 3, l'Unione L'Aquila partirà dal Fattori e Tinari. Non si muove, la neonata società debutterà il 14 ottobre contro Catania. Il tallonatore terza linea dice no ai Lions Piacenza. Dunque, come detto, si conclude qui la nostra rassegna stampa. Mattino 6 tornerà lunedì alle ore 8. La nostra informazione invece oggi con il TG6 nelle tre edizioni canoniche alle 14, alle 19 e alle 23. Grazie per averci seguito. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e un buon fine settimana. Grazie per averci seguito. Grazie per averci seguito.